Grazie a tutti i nostri spettatori di Montecarlo. Abbiamo un sentito eccellente qui a Montecarlo. Questo anno abbiamo avuto la possibilità di vincere il 2014 giugno, poi la Primo Cup, l'Octubre, e oggi siamo sul podio. Abbiamo davvero amato e grazie a Lorenzo e a Matteo quindi ci sentiamo a casa quando siamo in regatta qui. La raccoglione è finita con un po' molto corto, solo due punti per tre botte. E' stato davvero difficile sul water. E' stato, la squadra è crescita molto velocemente, abbiamo 21 botte oggi e siamo tutti qui. Finalmente i primi tre erano in un punto, ma i altri erano in tre punti. Quindi siamo tutti qui. Alla tua parte c'è l'entrante principale del Yacht Club de Monaco. E' una bellissima facilità in Monaco e una grande organizzazione. Grazie al Yacht Club de Monaco. Abbiamo avuto un buon anno questo anno, nel 2014. Abbiamo avuto altri accetti nel 2015. Questo yacht è diventato una tradizione per la nostra classe e siamo molto felici di venire qui ogni volta. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima.